c'è largo sulla destra Ulivi e riceve in questo momento Ulivi attende il piazzamento dei compagni, chiede lo scambio a Bifini Alessio Bifini si gira, buona combinazione azzurra, pallone alto però alla fine e sui palloni alti stanno avendola meglio i giocatori coreani deve tenere palla bassa l'Italia, lo diceva Berrettini più volte sia a Carlo Paris che soprattutto ai suoi giocatori bravissimo Michele Zeuli, ancora in questo caso buono, 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 buono il pallone Bifini Bifini, Ulivi chiama il pallone al centro, Bifini, Ulivi, Ulivi, gol è medaglia d'oro, medaglia d'oro, medaglia d'oro, è finita è un gol d'oro, è questo il vero gol, d'oro lo segna Luca Ulivi l'Italia vince l'Universiade, l'Italia ha vinto l'Universiade ed è festa sugli spalti, Carlo, Carlo dove sei? ce l'ho tutti qui vicino, è difficilissimo, sta stringendo Bifini